Per continuare a lavorare e fare impresa in montagna servono infrastrutture fisiche e immateriali, in particolare lo sbocco a nord e la banda ultralarga. A ribadirlo, gli esiti del questionario sullo sviluppo infrastrutturale del territorio e sulle possibilità per il futuro della montagna, lanciato un mese fa da Confartigianato Belluno alle proprie imprese associate. Un'indagine che ha coinvolto tutti i settori dell'associazione, dai costruttori alla meccanica, dal legno ai liberi professionisti, passando per commercio, benessere, comunicazione e trasporto, oltre 120 le realtà artigianali che hanno risposto al sondaggio. Le nostre imprese hanno risposto in maniera massiccia alla nostra richiesta. Si dividono essenzialmente, in maniera molto omogenea, le imprese che richiedono uno sbocco a nord su ferro e lo sbocco a nord su gomma. Diciamo che quello che ci è apparso è la necessità comunque di avere uno sbocco, indipendentemente poi da come sia. E importantissimo invece, ecco, lì c'è stato un risultato schiacciante, la necessità di avere connessioni digitali più veloci. Per il 26% degli intervistati, il treno delle Dolomiti potrebbe essere un importante motore di sviluppo e di business. L'altra grande priorità, come detto, è l'implementazione della banda ultralarga, che secondo il 72% dei partecipanti cambierebbe tanto, tantissimo, il modo di lavorare e le possibilità di fare impresa. Tra le richieste specifiche emerse dal questionario, inoltre il miglioramento della viabilità e i collegamenti intervallivi, nonché la costruzione di piste ciclabili per il turismo. Porteremo questi risultati al tavolo delle infrastrutture, con il quale stiamo lavorando già da qualche mese e che si rincontrerà adesso a breve. E poi tutti questi dati verranno trasmessi alla provincia, ovviamente, affinché possa portare le istanze e le esigenze delle imprese tutte unite del bellunese.